Continua a tenere banco la questione Matteo Salvini contro Claudio Baglioni e l'argomento in questione è i migranti. Ospite non è l'arena di Massimo Giletti, il ministro dell'interno ha detto spero che il festival di Sanremo continui a essere il festival della canzone italiana e non la festa dell'unità. Secondo me Sanremo non deve essere un palcoscenico politico nemmeno a favore del governo. A rispondere comunque a tutte queste notizie, insomma a tutta questa polemica ci si mette anche Valentina Nappi. Vi chiederete perché? Che c'entra lei? Ebbene sì. Valentina Nappi in un lungo post sul suo profilo social di Instagram ha scritto Mi sento stuprata da Salvini, un post che non le manda a dire ovviamente. E dice Sono stata stuprata da Salvini perché al di là di aspetti anche condivisibili che pure ci sono, delle sue scelte concrete e al di là del fatto che molte responsabilità non sono solo sue, Salvini ha riabilitato la peggiore cultura identitaria nazionalista, quella rappresentata dalla triade Dio, Patria, Famiglia. Babbo Natale, la Befana, niente Ramadan, sia il panettone rigorosamente a Natale, la colomba a Pasqua, la cucina tradizionale, i gay sì ma la famiglia solo quella tradizionale, i crocefisti rigorosamente nelle aule, Dio nei discorsi degli esponenti politici e tutta la plebe unita comunitariamente dai vecchi sani, valori identitari, nazionali, tradizionali. Queste sono solo in parte le parole di Valentina Nappi, il post è molto molto lungo e molto dettagliato, lo trovate su Instagram e anche lei ha voluto dire la sua su Matteo Salvini vs Claudio Baglioni. Grazie a tutti!